Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa nuova video anteprima, questa volta dedicata a Ubuntu 24.04 LTS, nome in codice nobile Numbat. Il rilascio della versione finale di Ubuntu 24.04 è previsto per la settimana prossima. Visto e considerato che siamo di fronte a una versione beta, quella attualmente presente sul sito di Canonical, e visto e considerato il fatto che tra la versione beta e la versione finale cambierà poco e nulo, praticamente al massimo verrà aggiornato qualche pacchetto del caso per correggere qualche bug che è stato riscontrato negli ultimi minuti, ho deciso di procedere con una settimana di anticipo alla pubblicazione di questo video anteprima, proprio perché ormai siamo qui, quindi non ci sono cambiamenti sostanziali che vedremo tra la versione beta e la versione stabile. E devo dire che da un rapido giro che ho fatto non ci sono bug di sorta. Iniziamo con dire che io questa mattina ho lanciato l'installer prima di andare al lavoro, e ovviamente mi sono scontrato con il solito non so problema dell'installer nuovo, quello scritto in Flutter, che diciamoci, almeno io continuo a odiarlo, continuo a preferire la vecchia versione, ma soprattutto continuo a preferire Calamares, che lo trovo molto più intuitivo e anche rapido nell'installazione. Tant'è vero che questa mattina, come vi dicevo, ho lanciato il setup dell'installazione di Ubuntu 24.04 e praticamente ho trovato, ho lasciato il computer prima di andare al lavoro che stava nella fase di configurazione del sistema e quella fase di configurazione del sistema è durata praticamente un'eternità. Tiratina da vecchia è canonica che non ha trovato un modo per migliorare questa fase durante il setup. Se siete utenti e novizi potreste anche spaventarvi nel vedere tutto, quindi diciamo, ma com'è possibile che ci prendete tutto questo tempo per fare la configurazione? Eh, non lo so, perché ci sta impiegando tutto questo tempo questo nuovo installer. Fatto sta che, sapete bene, io ho smanetto formato install o distribuzione dalla mattina alla sera e ci sono altri installer che sono rapidissimi, cioè per esempio l'installer di, che ne so, di PopOS, che è una scheda nell'installazione, c'è Caramares che è molto veloce anche quello nell'installazione e almeno ti ha anche un'indicazione visivamente sta installando, non lo so, qui si era impuntato su una determinata voce nell'installazione, era rimasto qui, non dava segni di vita il computer e in quel momento ho vissuto anche attimi di panico. Vi devo dire la verità, ho pensato e detto, vuoi che ora torno a casa quando torno e mi ritrovo con qualche problema con il computer, fortunatamente invece ha portato a termine l'installazione, non so quanto tempo ci abbia messo per fare, comunque erano quasi 15 minuti che era fisso su quella schermata, prima che scendessi immagino che se saranno andate, spero, un'altra 5-6 minuti, 10 minuti per completare il setup, quindi tirati nell'orecchio in questo caso a Canonica per questo nuovo installer, che a detta di molti è un buon installer, però io sto trovando soltanto bug e non solo io, ci sono anche altri membri della community che mi hanno segnalato problemi durante l'installazione e mi hanno segnalato anche altri membri della community che durante questa fase di installazione e configurazione di Ubuntu 24.04 con il nuovo installer ci vuole molto tempo, anche gli è trascorso molto tempo. Io speravo che su una macchina reale che è abbastanza carrozzata, perché questo è un Ryzen 7 3800X con 16GB di RAM e SSD M.2, pensavo che almeno in questo caso avrebbe fatto molto più veloce, però così non è stato. Vabbè, tralasciando questo piccolo particolare, ho avviato la macchina giusto per verificare il corretto funzionamento e vi faccio vedere la schermata di benvenuto che viene mostrata a seguito dell'installazione. Nella schermata di benvenuto troviamo appunto il benvenuto su Ubuntu 24.04, nobile non bat, non fate caso che c'è scritto branca in sviluppo, perché stiamo ancora sulla beta, quindi nella versione finale non vedrete quella scritta. Viene proposto durante il setup iniziale di attivare, di abilitare Ubuntu Pro, che sapete è gratuito per utilizzo domestico, io ho lasciato skip for now perché non mi interessava configurarlo in questo momento. C'è la solita schermata, aiuta a migliorare Ubuntu per condividere i dati del sistema con il team di Ubuntu oppure non condividere, e poi tutto pronto, avvia l'App Center e può iniziare a utilizzare il sistema operativo. Ma vediamo quali sono, innanzitutto vediamo quali sono, mediante NeoFetch, vediamo quali sono le caratteristiche. Come potete vedere troviamo i kernel Linux 6.8, quindi una delle ultime versioni del kernel Linux. Abbiamo 11 pacchetti snap preinstallati. La versione della shell è la 5.2.21, il gnome è la versione 46, ovviamente con alcune, al solito mix di canonica, mix di che cosa? Di estensioni, come potete vedere qui sulla sinistra, che rendono l'aspetto di gnome più utile, più facilmente utilizzabile, diciamo così, anche per chi si affaccia per la prima volta a gnome, quindi miglior a gnome. Abbiamo le personalizzazioni visive del tema Yaru, che è basato sul tema Adua Ita, con qualche piccola modifica, giusto per il colore. E poi abbiamo qualche altra modifica, che ad esempio troviamo che alcune applicazioni non sono quelle standard del pacchetto base di gnome 46. In che senso? Vediamo per esempio che il terminale non è l'ultimo terminale che è stato introdotto su gnome, ma troviamo la versione quella vecchia, non ho capito perché hanno deciso di mantenere questa versione vecchia. Vabbè, ma andiamo avanti. Andiamo a vedere quali sono le applicazioni in formato Snap che sono state installate. E come potete vedere, a parte i pacchetti quelli base, troviamo Firefox, troviamo un tool chiamato Filmover Updater, che è un nuovo tool che è stato introdotto su questa versione di Ubuntu per la gestione e gli aggiornamenti del firmware, e troviamo anche Thunderbird in formato Snap. Andiamo a dare un'occhiata a qualche altra caratteristica della distribuzione. Andiamo a dare, per esempio, un'occhiata al tema. Questo è il tema di default che troviamo su Ubuntu 24.04 GTS. Come vi dicevo, è il tema Yaru, che nell'ultima versione è stato riadattato per essere facilmente mantenibile, è basato sul tema Adwa Ita, e cambia soltanto lo schema di colore, il solito arancione di Canonical. Però è stato svecchiato, cioè è soltanto... Vediamo un attimo, andiamo subito nelle impostazioni, così andiamo a vedere un po'. Allora, andiamo subito, anzi, andiamo subito su Aspetto. E abbiamo il tema, quello chiaro, poi, che è quello predefinito. Abbiamo il tema scuro, che non so come lo fa la gente ad utilizzare, non lo so, a me sembra un pugno nell'occhio, questo accostamento di arancioni, viola, grigio, con cosa nera dietro. E poi abbiamo la solita selezione di temi, di wallpaper nuovi per la distribuzione. Mettiamo questo, questo è baccarino. Oh, già questo? No, anzi, oddio, è orribile. Mettiamo qualche altra cosa. Ah, questo qua lo utilizzavo anche su PopOS. Allora, andiamo a dare adesso uno sguardo, vediamo un po', alle applicazioni che sono preinstallate. Troviamo la suite d'ufficio LibreOffice, che è installata nella versione, quella da repository, quindi non è la versione in snap, quindi immagino che non sia nemmeno tanto aggiornata con le ultime versioni. Che vediamo che versione è di LibreOffice. È la Community 24.2. Manca, ovviamente, il pacchetto LibreOffice Base, quello che non viene mai installato da nessuno sulle distribuzioni Linux. Qualcuno utilizza ancora applicativo come quello, per il database? Fatemelo sapere nei commenti. L'editor di testo, l'editor di testo predefinito è quello nuovo di Gnome, quindi questo l'hanno aggiornato, che è davvero carino. Vediamo che cosa c'è più. Io ho fatto un'installazione, quella completa, che durante la fase di installazione vi chiede, come pensate, sapete se avete già installato un punto, se installate quella versione minimale, ma l'ho installato pure una versione completa, quindi che vi mette un po' tutta una serie di applicativi aggiuntivi. Io ho preferito prendere quella completa in modo tale da avere già out of the box tutto l'essenziale, per poter iniziare a lavorare. Vediamo il lettore video, che è Gnome Files, nome video, ok, e quindi nessuna novità sotto questo punto di vista. Vediamo adesso, andiamo subito a dare uno sguardo all'applicazione firmware updater, che ci fa vedere eventuali firmware da aggiornare. Queste sono quelle di Wi-Fi, dei dischi. Immagino che sarà anche facile poter aggiornare. Questo si può verificare il firmware, vediamo un po'. Questo che cosa dice facendo la verifica? Non dice niente, quindi pensavo che dava qualche schermata aggiuntiva nella verifica. Andiamo a vedere le altre novità. Abbiamo la calcolatrice a ben inutile che ve la faccio vedere. Abbiamo la remina che viene preinstallato con la versione, diciamo così, completa di Ubuntu. Il creatore di dischi d'avvio. Lo strumento per la verifica degli aggiornamenti, che è incluso in tutte le versioni di Ubuntu. Ci sta mettendo anche una vita per aggiornarsi, andiamo avanti. Ah, no, anzi no, state vedendo VLC, ma VLC non è preinstallato. Ma si è installato come dipendenza quando sono andato ad installare OBS Studio dai repository. Quindi non fate caso a VLC che lo trovate preinstallato. Troviamo però preinstallato Transmission per la gestione dei file torrent. Nelle utility, abbiamo le solite utility di Ubuntu, di Gnome. Quindi, anche nella versione, diciamo, quella più completa dell'installazione abbiamo poca roba. Che dice qua, questa procedura, non è possibile installare tutti gli aggiornamenti. Andiamo a vedere dopo qual è il problema. Adesso, altrimenti blocchiamo tutto. Meglio evitare. Ah, e troviamo anche il Rhythmon Box preinstallato come lettore audio. Troviamo sempre qui, ormai è una cosa standard di Ubuntu da diversi anni. E troviamo l'applicazione App Center, quella nuova. Che avevamo già visto con le precedenti versioni. Vi avevo fatto anche un video qualche tempo fa dove vi faccio vedere questa applicazione. Che serve per gestire gli aggiornamenti di sistema. Appena ho installato il sistema, sono andato a verificare. C'era da installare l'ultima versione di Firefox Thunderbird. Lo Snap Store, lo strumento per gli aggiornamenti del firmware. L'installazione qui dalle applicazioni sembra anche semplice. Vedete qui, per esempio, se vogliamo installare Transmission, possiamo vedere... In formato Snap, possiamo installare la versione, quella stabile, oppure l'ultima versione. Andiamo a installare così, vediamo un po' come funziona. Che possiamo installare in formato Snap. Andiamo a installare... Ah, Gimp. Il solito Gimp. Andiamo a vedere come si installa l'applicazione. Come potete vedere, c'è la versione, quella stabile, che ci viene consigliata come installazione predefinita. Possiamo installare la versione preview, il ramo preview, e possiamo installare la release candidate. Ma ad esempio che ne so? Mettiamo... Mettiamo la stabile per adesso. Andiamo a vedere come funziona l'installazione, se è abbastanza veloce. L'indicazione dell'installazione dei pacchetti, vedete, è visiva soltanto qui in questa schermata. Onestamente, avrei preferito, questa è una critica che avevo fatto già l'altra volta, avrei preferito che ci fosse qualcosa qui in basso a sinistra, così come gli altri store di applicazioni, che ne so, ad esempio quello predefinito di KDE, con una barra di avanzamento che possiamo verificare in basso. L'avrei trovata più coerente e più facile da utilizzare, da gestire. Vediamo adesso, finiamo di fare l'installazione, nel frattempo andiamo a vedere un po' qualche altra caratteristica. Come potete vedere, c'è anche un restare che hanno fatto per quanto riguarda il pannello laterale di Ubuntu, cioè il logo di Ubuntu per il mostro applicazioni. E andiamo a vedere adesso quali sono le personalizzazioni, quelle adoperate da Canonical. E le troviamo all'interno delle impostazioni sottovoce Ubuntu Desktop. Qui è possibile gestire tutte e quante le serie di estensioni preinstallate da Canonical, che rendono, anzi, che caratterizzano l'Ubuntu Desktop. Qui c'è la possibilità di selezionare le icone della scrivania. Quindi, per esempio, mostriamo e nascondiamo la carta home, dove siano posizionate le nuove icone, le dimensioni delle icone, piccole, grandi, normali, o addirittura stanno... C'erano due piccole, come mai? Ah, piccole e molto piccole. Hanno fatto una traduzione un po' parziale. Rimettiamo su normale. Qui è possibile personalizzare il comportamento della dock. Di default la dock è preimpostata, che rimane sempre visibile, come potete vedere, anche quando mettiamo qualche applicazione a tutto schermo. Vediamo se si nasconde o no. Quindi continua ad essere la solita dock preimpostata di Ubuntu. Però possiamo modificare il comportamento della dock, che ne so, mettendo l'opzione Nascondi, automaticamente la dock, quando una finestra si sovrappona a esso. E in questo caso, come potete vedere, se abbiamo una finestra a tutto schermo, la dock scompare. Se noi la andiamo a spostare sulla finestra, sulla parte della dock, la dock scompare anche in questo caso. Quindi possiamo attivare o disattivare questa funzionalità. Un'altra funzionalità della dock è la modalità pannello. Attualmente è in modalità pannello, che si estende quindi per tutta la lunghezza del schermo. Poi possiamo attivare anche la modalità, quella che non si estende a tutto schermo, ma è come se fosse una dock, quella di GNOME, per intenderci. E trovo anche carina, abbastanza carina questa cosa così. Anche se chi instaga Ubuntu preferisce sempre avere il pannello gigante fisso. Qui è possibile modificare la dimensione dell'icone, il comportamento, se mostrarlo su tutti gli schermi, in questo caso abbiamo solo uno schermo, ma eventualmente si può specificare per i vari schermi. La posizione, quindi possiamo spostare questa dock da sinistra, che è il default, metterla in basso, o metterla a destra, se preferiamo. No, rimettiamo sempre a sinistra, perché noi abbiamo il cuore a sinistra. Cioè, configura il comportamento della dock, vediamo che cosa fa. Ah, ecco, questa è la solita opzione per mostrare i volumi montati, quindi andiamo subito a nascondere, perché altrimenti va a mostrare anche i volumi non montati, come potete vedere. Possiamo personalizzarcelo come vogliamo. Anzi, facciamo così, che disattiviamo soltanto quelli non montati. Qui è possibile abilitare o meno la visualizzazione dell'icona del cestino. Poi, ripartizione avanzata. Questa è una delle novità di queste ultime versioni di Ubuntu, che riguarda una specie di tiling delle finestre, che si può fare gestendo appunto la posizione delle nostre finestre all'interno dello schermo. Detto così, sembra incasinata la cosa. Ma che cos'è? Semplicemente il fatto che possiamo gestire la finestra a metà, ma possiamo gestire anche il quarto di finestre. Ed è una cosa che finalmente funziona, come si deve. E quindi, è utilissima, così come i sistemi operativi, quelli commerciali, quelli moderni. Ed è una cosa che manca di default a Gnome, che continuo a non capire, perché quelli di Gnome non si ostinano a non mettere una cosa del genere di default. Così come si ostinano a non mettere il supporto all'icone nella trial di sistema, che su Ubuntu è predefinito. Quindi abbiamo le nostre belle iconcine dei vari applicativi. Ad esempio, faccio sempre il caso di non soltanto le applicazioni messaggistiche come Telegram, ma anche applicazioni come OBS. Applicazioni come OBS. Se io mi trovo a dover registrare qualche contenuto, mi fa comodo avere l'iconcina qui, in alto a destra, con la possibilità di andare a stoppare subito la registrazione, mettere in pausa, ma anche semplicemente con l'indicazione visiva che sta registrando, con il pallino rosso che sta registrando, cosa che con Gnome liscio e puro non si può avere, perché non c'è l'iconcina, quindi non so mai se sta registrando. E parecchie volte mi è capitato di stare qui a parlare a vuoto. E quindi queste sono le opzioni della ripartizione avanzata delle finestre, che dice qua soltanto ah vabbè questa è la gestione avanzata, quindi possiamo anche vediamo se disattivando come vabbè come è giusto che sia non funziona più il quarto di finestra. Andiamo a dare uno sguardo invece agli altri impostazioni perché potremmo anche soprassidire visto che ho considerato che sono schermate di GNOME 46 quindi non è che chissà che cosa troviamo a quel tendo. Però se è la prima volta che vedete GNOME 46 così vi faccio vedere un sguardo alle varie impostazioni i menu come sono stati razionalizzati i wifi gestione della rete gestione del bluetooth non so chi io continuo a vedere questo dispositivo chissà di quale vi scine a questo dispositivo non ho ancora capito qui la gestione delle schermate dei monitor chiedo scusa gestione dell'audio dove possiamo impostare i dispositivi di uscita i dispositivi di registrazione e quant'altro gestione energetica qui possiamo gestire lo spegnimento dello schermo io di solito lo metto a 15 quindi lo mettiamo subito a 15 il comportamento del pulsante dell'alimentazione la sospensione automatica i profili energetici qui la possibilità o meno di gestire l'angolo attivo ecco per esempio questa è un'altra di quelle cose che di default noi sul gnome abbiamo la lot corner che andiamo con il mouse qui in alto a sinistra e ci attiviamo i desktop virtuali e quant'altro qui è disattivato per impostazione predefinita perché ubuntu ha una gestione diversa volendo possiamo comunque attivare l'angolo attivo e qui possiamo ripristinare il comportamento che troviamo su gnome anche questo per esempio che cos'è questo è trascinare le finestre contro i bordi superiori sinistra e destra dello schermo per ridimensionare questa di default è spenta si può attivare anche così che non mi sembra che è questo giusto ah si evidentemente è disattivato perché altrimenti va a cozzare con la nuova gestione di tagging qui la gestione multischermo passaggio tra applicazione e quant'altro quindi sono gli soliti aspetti quelli che troviamo su gnome questa è la schermata dei temi con i due temi quello predefinito e quello scuro possibilità di cambiare lo sfondo possibilità di cambiare gli accenti per adattare ai nostri gusti se non ci piace l'arancione di ubuntu possiamo cambiarlo qui come la schermata che abbiamo visto prima ubuntu desktop gestione applicazioni la gestione delle notifiche funzionalità di ricerca gli account online possiamo collegarci a google a quello microsoft a nextcloud a microsoft exchange ai vari servizi enterprise come cerberos a webdav quindi le solite cose che ripeto troviamo tutte su gnome qui la gestione del mouse e trackpad vado veloce perché sono cose che non sono prerogative di ubuntu in questo caso ma sono cose di gnome quindi se avete dimestichezze se avete già visto qualche video su ultime versioni di gnome già sapete di cosa stiamo parlando questa è la gestione dei profili colore non è calibrato in monitor ah ecco devo vedere se riesco a trovare il profilo colore di questo monitor per capire se oh un bug in diretta aspetta perfetto un bug in diretta avete visto si era bloccata la schermata se non trovo un bug io era troppo strano che non trovo un bug durante l'istrazione vabbè gestione delle stampanti gestione dell'accessibilità privacy e sicurezza e qui impostazioni di sistema raggruppate con le informazioni qui vi fa vedere la macchina le caratteristiche della macchina che dire sembra reattivo io sto vedendo anche un'altra cosa che mi ha mi ha stupito vabbè adesso stiamo parlando di un avvio un secondo avvio dell'applicazione però ho notato che anche adesso anche il primo avvio di Firefox seppur in formato snap è veloce ed è una cosa che mi ha stupito perché nelle precedenti versioni di Ubuntu con Firefox in formato snap era una bella lentezza quando si si avviava si avviava si avviava Firefox e adesso vedo che carica molto veloce vediamo che su Thunderbird invece ha ricevuto le stesse attenzioni e si diciamo che anche in questo caso si carica in maniera veloce io prima ho lasciato l'installazione di 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 Gimp andiamo a vedere con Gimp se la velocità di esecuzione è buona e si è decisamente accettabile la velocità di esecuzione anche di Gimp in formato snap vi faccio vedere colgo anche l'occasione per far venire un'altra cosa prima vi avevo detto che ho installato Gimp in formato snap e vi faccio vedere un'altra cosa che magari potrebbe interessare ad alcuni di voi qui qui è la schermata per gestire gli aggiornamenti di Gimp però se noi andiamo nelle impostazioni del programma possiamo anche cambiare qui possiamo disinstallare ma possiamo cambiare anche il canale di Gimp quindi se vogliamo andare il preview update 2.99.18 compare il postante switch channel quindi noi possiamo cambiare versione di un applicativo installato in formato snap possiamo quindi switchare tra i canali il canale stabile il canale in sviluppo il canale preview e quant'altro e lo possiamo fare direttamente da questa applicazione di Canonica che serve appunto a gestire e installare i pacchetti in formato snap e devo dire che trovo una cosa molto molto comoda che si fa subito lo switch del canale quindi l'aggiornamento a una nuova versione in sviluppo o il downgrade alla versione stabile e viceversa in pochi secondi cliccando sull'apposito sull'apposito tasto GG per Canonica che ha fatto una buona l'ha pensata bene con questo switch rapido all'interno delle impostazioni ottima ottima pensata sì sembrava che si stara bloccando invece no perché stavo Instagram evidentemente il disco stava un po' a pensare che dire è una buona versione quella di di questa nuova versione di Ubuntu ve lo saprò dire nei prossimi giorni con un utilizzo heavy heavy pesante quindi con le varie applicazioni vi saprò dire se è abbastanza stabile però a occhio e croce da quel che ho potuto vedere in questo breve giro e poco prima prima di fare questo video anche di alcuni di alcuni giretti che mi sono fatto per vedere qualche impostazione devo dire che la trovo veloce la trovo stabile la trovo reattiva e quella cosa che mi piace di più è come vi ho detto trovo anche reattive scattanti di applicazioni in formato snap che prima erano diciamo un po' pachitermose ed era un problema ogni volta avviare applicazioni in formato snap soprattutto capiamo quando si avviavano ed era una cosa che mi aveva fatto iniziare a odiare Ubuntu tanto è vero che io manco da un punto praticamente dalla precedente LTS che utilizzavo più o meno in forma stabile poi subito sono migrato ad altre distribuzioni con la precedente LTS e mi sono saltato devo essere sincero mi sono saltato l'utilizzo quotidiano delle release quelle semestrali quelle le ho saltate complice il fatto che sono stato a girovagare su altre distribuzioni ma anche il fatto che avevo trovato una serie di bug che avevo trovato io soprattutto con l'install che mi aveva dato problemi avevo deciso di accantonare di abbandonare Ubuntu mi ero deciso a vivere su altri lì infatti ci sta vivendo anche benissimo su altri lì io consiglio a tutti quanti quelli che si approcciano per la prima volta al mondo di Linux di provare distribuzioni un po' più più aggiornate un po' più branding edge ma comunque fatte bene che sono che ad esempio Endeavor OS ma consiglio anche a molti di voi se avete voglia di provare una distribuzione che sia snap free e però volete restare nell'ambito di canonica installatevi installatevi PopOS io non consiglio manco più di installare Linux Mint in passato vi consigliavo di installare Linux Mint alle persone che cercavano qualche cosa basate sui pacchetti sui deb su Ubuntu però cercavano qualcosa a snap free io prima li indirizzavo sempre su Linux Mint però ho visto che a conti fatti non ha nemmeno più senso installare Linux Mint perché abbiamo una PopOS che è diventata solida offre anche una serie di vantaggi rispetto sia a Ubuntu che a distribuzione madre che a Linux Mint ovvero la possibilità di avere kernel sempre aggiornati driver video sempre aggiornati se avete schede Nvidia quindi se siete utenti Nvidia e cercate un'esperienza solida indirizzatevi su PopOS se invece siete utenti che cercano un sistema equilibrato a 360 gradi mi sa che questa volta a questo giro consiglierò di installare installare nuovamente Ubuntu con questa nuova LTS che sembra promettere bene complice le nuove versioni di Gnome che sono state migliorate rifinite qua e là complice di nuovo kernel che migliora le prestazioni di sistema questo Ubuntu potrebbe essere una buona distribuzione degli driver per la maggior parte delle persone all'ascolto perché come vi dicevo sembra sembra stabile ha un look and feel che non vi fa non vi fa diciamo così rimpiangere i sistemi operativi proprietari perché diciamo il look and feel di Ubuntu Ubuntu desktop è uno dei migliori personalizzazioni che si possono avere su Gnome e che è indicata sia per i neofiti che per gli utenti un po' più avanzati che vogliono qualcosa di facilmente gestibile con il punto e clic adesso come ho avuto modo di vedere le applicazioni in formato snap si caricano in tempi decisamente rapidi quindi non c'è più l'ostacolo che c'era prima quindi ripeto molto probabilmente vi tornerò a indirizzare verso il punto 24.04 quando vi chiederete che distro posso utilizzare che distro posso utilizzare sulla mia macchina con quale distro posso iniziare beh sembra che questo punto sia davvero promettente ovviamente nelle prossime settimane seguiranno degli approfondimenti sulle pagine del blog seguirà la sua anzi la mia consueta guida post installazione nella quale vi darò alcuni consigli su come rifinire la vostra installazione di ubuntu che avrete i soliti quattro comandi in cruce cioè come per esempio installare i codec audio installare giusto qualche altra applicazione che vi consiglio giusto per fare gli ebook ridere e quant'altro quindi alla fine se siete già utenti affezionati di marcosbox saprete che le guide post installazione delle versioni di ets di ubuntu sono più o meno simili tutte quante quindi le cose da installare che vi consiglio sono sempre le stesse e a questo giro non avrò nemmeno necessità di consigliarvi di rimuovere la versione di firefox in formato snap in sostituzione di installare quella in formato deb perché firefox in formato snap su questa nuova versione di ubuntu gira bene ed è veloce quindi non c'è nemmeno più quella parte della guida post installazione bene spero di non avervi annoiato con tutti questi giri di parola lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci ragioniamo con un prossimo video sul canale youtube di marcosbox con i podcast con le notizie sul blog e quant'altro ciao ciao ciao